allora in pratica siamo arrivati alla festa dei pd e ora si faccio vedere l'ingresso e ci avevamo i permessi per ci abbiamo i permessi per il presidio non so se vedete questa siepe e quella siepe di là ebbene sono arrivata una persona che si è presentata come la rappresentante del pd malgrado la dico sposte d'accordo ad attaccare lì perché siamo appena sopra le transene ci ha fatto levare tutte e due gli striscioni che sono l'abbiamo messi all'esterno cioè in pratica quello che è il dissenso all'interno del pd non esiste